Credete che la figura del Direttore Generale possa essere una garanzia di imparzialità e di democrazia e di oggettività nella gestione? Io ritengo di no. È stato fallimentare, al di là degli uomini, al di là di tante bravissime persone che hanno lavorato con grande sensibilità e con grande dedizione al servizio dell'istituzione. Ma credo che sia sbagliato proprio la figura di gestione di questo organismo che si è voluto raccogliere e limitarla semplicemente una persona. Ma io ritengo che da questo ovviamente di parte si evidenzia e si sviluppa tutto il ragionamento contenuto in questo tipo di provvedimento. Detto questo vi ringrazio moltissimo e starò in attesa degli sviluppi. Se il voto di fiducia sarà il voto di fiducia. Se ci dovesse essere un margine, anche perché qualche contributo emendativo in questa fase dei lavori parlamentari e quindi dell'anno, potesse essere accolto, tanto meglio, credo che se viene a essere ritenuto importante e migliorativo anche del testo che è al nostro esame. Grazie. Onorevole Adinolfi, prego. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, rispetto al provvedimento generale mi faccio direttamente riferimento alle parole con compiutezza espresse e con la posizione del Partito Democratico, riverberata dall'intervento dell'onorevole relatore Livia Turco, e anche nelle osservazioni acute dell'onorevole Luciano Ampedoto e anche in qualche riflessione critica dell'onorevole Grassi. Mi preme in questa sede. Io non ho lavorato in Commissione Sanità. Sono stato impegnato nella quattordicesima Commissione. Già in quella sede ho fatto presente alcune mie perplessità rispetto all'articolo 7 e all'articolo 8. Poi, con ossequio alla disciplina di partito, ho votato insieme al gruppo del PD a favore del parere della Commissione. Resta però in me una necessità di far presente in quest'Aula, signor Presidente, un elemento di dubbio che permane rispetto all'articolo 7 riguardante le ludopatie. È evidentemente un tema di grandissima rilevanza sociale in questa fase. Signor Ministro, io dirò con chiarezza quello che penso. In questo momento c'è un'emergenza tale che rende il mondo del gioco d'azzardo come un vero e proprio luogo in cui un'ulteriore tassazione viene spalmata sui ceti medio-bassi. In termini di salute, visto che di questo ci stiamo occupando, in una percentuale di questi casi arriviamo dentro la fattispecie della ludopatia. Però bisogna riuscire ad affrontare con grande intelligenza delle cose questo comparto, perché non è un terreno banale. Come sapete, gli italiani spendono in giochi, in questo Paese vengono spesi 80 miliardi l'anno, secondo i dati del 2011. Ed è un dato in crescita. È un dato enorme. Ovviamente va depurato dalla cifra che viene poi restituita ai giocatori stessi attraverso le vincere. Ma siamo comunque nel terzo comparto industriale del Paese. Non è quindi un tema irrilevante, anche dal punto di vista economico, riuscire a far luce su una distinzione da compiere che, a mio avviso, il provvedimento nell'articolo 7 non compie appieno. In particolare sulle norme che riguardano la pubblicità, doverose, importantissime, in particolare nel territorio che sta a difendere i minori. È un elemento della mia massima preoccupazione, quello di difendere la sensibilità minorile e far sì che i minori non cadano facilmente, poiché sono un uomo che conosce la rete, sa come la rete può attrarre facilmente i minori dentro questo contesto. Ma in quel passaggio dell'articolo 7 si parla esplicitamente, anche in altri passaggi, di giochi convinciti in denaro. Ed è qui, secondo me, che si crea un'ambiguità. A mio avviso, e i dati sono lì a confortarmi in questa opinione, Gli italiani sono in questo momento attratti, e lo ripeto, in particolare i ceti medio-bassi, dal cosiddetto gioco ad aleatorietà pura. Ed è il gioco che, appunto, comunemente chiamiamo gioco d'azzardo. Quanti pensionati vediamo rovinarsi nei bingo? Quanti pensionati spendono la pensione al gratta e vinci? Quanti soldi vengono immessi in quelle, voglio dirlo, maledette macchinette che vediamo allineate ormai ovunque, nelle nostre città, nei nostri comuni, sul territorio nazionale? Ebbene, come sapete, qui, da rappresentanti del popolo e da rappresentanti di una responsabilità dello Stato, sappiamo bene che lì c'è un elemento di tassazione pura, perché le modalità di vincita, cioè di riscossione poi del denaro immesso, sono tali da essere estremamente punitive nei confronti del giocatore. Nella normativa italiana, e segnalo al Presidente, per segnalare anche al Signor Ministro, in quel che comincia a muoversi anche in Europa, perché il 24 di ottobre in Europa si comincerà a avere materialmente a disposizione una carta che parlerà di giochi e di mercato europeo dei giochi, c'è una distinzione che è, a mio avviso, prioritaria, che è quella tra il gioco d'azzardo e i cosiddetti skill games, che sono giochi d'abilità, che sono giochi dove prevale la capacità, diciamo così, di un giocatore rispetto a un altro. E in quei giochi, diciamo così, la frustrazione e lo sconfitto, e la propria incapacità, ipso facto, allontana dal gioco stesso. Se io e lei, Presidente, giochiamo a poker, poiché io sono un pokerista piuttosto bravino, tendo a immaginare che quella partita la vincerò io. Se io e lei insieme andiamo, Signor Presidente, al tabaccaio e compriamo un gatto e vinci, allora in quel territorio lei può avere più fortuna di me. Allora, questa distinzione noi dobbiamo tenerla con grande chiarezza evidente. Perché? Perché non possiamo rassegnarci all'idea, oppure immaginare un'operazione da Stato etico, per cui si cancella il mondo del gioco dalla cultura, perché fa anche un pezzo di cultura di questo Paese. Gli italiani giocano, ma sarà forse il caso di spiegare meglio loro che una cosa è prendere dei soldi e bruciarli direttamente in un camino, che, badate bene, poi alimenta molto i conti dello Stato, e un'altra cosa è magari avviare una cultura del gioco. Una cultura del gioco che sappia, ad esempio, distinguere tra un gioco totalmente idiota, qual è quello del grattare un gratta e vinci, e un gioco dove invece la misurazione di una capacità può rendere evidente come dire, anche un elemento del divertimento che c'è nelle capacità delle persone. Voglio dirlo perché esiste un movimento molto ampio di persone che giocano a poker. Questo è un territorio sempre molto minato quando se ne parla. Ma insomma, il campione del mondo di poker ha vinto i campioni del mondo 12 volte. Allora, o noi diciamo che questa è una persona particolarmente fortunata, o forse l'elemento dell'Aleatore Dalli non c'è. Peraltro c'è una scuola italiana del poker. Abbiamo vinto il campione del mondo con un ragazzo di 24 anni che si chiama Rocco Palumbo. Nelle scorse annate ne abbiamo vinte altre. Dario Minieri, Luca Pagano, sono nomi che ovviamente non dicono nulla a chi ha più di 50 anni, diciamo così, o forse anche più di 40 o più di 30. Nel mondo dei giovani questi sono icone. Allora sono icone da perseguire? Sono da perseguitare? Sono criminali? Perché qui sulla lidopatia passa poi il criterio che giocare è male. Allora io vorrei che passasse, vorrei che ci fosse anche un intendimento chiaro di quest'Aula, che giocare d'azzardo è male, che essere così cretini da buttare il denaro dentro un caminetto acceso è una follia dal punto di vista delle proprie finanze personali. Badate bene, con una curva ascendente di questa spesa ancora più aggravata in fase di crisi del nostro Paese. Ed è questa la cosa che fa più male a chi valuta questo territorio. Io penso che nel provvedimento bisognasse avere maggiore attenzione a questo elemento. Perché io non credo alla formula da stato etico. Da domani non vi facciamo più la pubblicità e voi smetterete di giocare magicamente. Non funziona così. Probabilmente poi dopo, se fuori meccanismi fossero portati a estreme conseguenze, avremmo solo un rifluire dentro a dimensioni di criminalità che dobbiamo assolutamente tenere lontano dal mondo dei giochi. Voglio dire che c'è un mondo del gioco, particolare del gioco del poker e degli skill games, pulito, che può essere valutato per quello che è, in cui se c'è la pubblicità di un torneo magari non si sta pubblicizzando o incitando, come dice la normativa all'articolo 7, al gioco con vincita in denaro. Si sta valutando un modo di socializzazione non molto differente da andarsi a fare una pizza la sera con la propria finanzata, con costi analoghi. Dunque questo territorio va affrontato sapendo di cosa si sta parlando. sapendo che bisogna discutere, confrontarsi, avere la capacità di distinguere su questi temi e massimamente lo deve fare quest'Aula e il Governo, lo Stato con i suoi provvedimenti. Altrimenti moltissimi, perché sono centinaia di migliaia, milioni secondo molte statistiche, i praticanti degli skill games si sentiranno semplicemente criminalizzati. Questo è un errore da non fare. C'è anche l'annosa questione della regolamentazione delle sale di Poker Live, che sono state, come dire, liberalizzate ma non regolamentate. E tutto questo mondo, questo comparto, che è un comparto, lo ripeto, sano, viene a vivere una condizione di criminalizzazione che non va vissuta. Bisogna condannare duramente il gioco d'azzardo, bisogna spiegare agli italiani che spendere in quel modo i soldi è veramente una stupidaggine, bisogna innestare una cultura del gioco. Da questo punto di vista, il punto dell'evidenziare, per esempio, le percentuali di vincere è sicuramente un passo avanti contenuto in questo provvedimento molto importante. Si può, si deve fare di più. Grazie Presidente. Grazie a lei. Onorevole Miotto, prego. Grazie Presidente. Sono state dette molte cose, per cui mi evito qualche ripetizione. E però alcune sottolineature le voglio fare, perché innanzitutto un decreto legge, sempre visto criticamente dal Parlamento, ma ha un pregio questo decreto, che ha evitato che il lavoro svolto in Commissione dodicesima Affari Sociali attorno ad alcune importanti innovazioni nel sistema sanitario finisse nell'archivio. Mi riferisco al Governo clinico, mi riferisco in generale, insomma, alla dirigenza sanitaria, mi riferisco alle sperimentazioni cliniche, mi riferisco in parte a rischio clinico, mi riferisco all'adeguamento dei leghi.